Ci stanno degli animali che devono essere accoliti. Dopodiché c'è questa base di questo ristorante, io ho già lavorato l'anno scorso, adesso lo dovrei riprendere. Però ci deve avere la sicurezza di avere un personale che sta lì almeno il sabato o il domenico. Ecco qui un datore di lavoro che sta offrendo, sta facendo un'offerta di lavoro, Giuseppe Di Fiano Romano, sta parlando con i lavoratori, quindi ringraziamo il Signore. Abbiamo quello che lui ha da offrire e adesso farà i colloqui con le varie persone. E grazie a Dio.